bentornato benvenuto cium allora ad oggi ho parlato di varie gang come animals valentino se via così ma sapevi che le gang sono suddivise in categorie specialmente a net city no vero allora mettiti comodo caro cium che ci penso io a raccontarti per bene le cose se sei pronto partiamo solo una cosa al volo il 60 per cento di chi guarda i miei video non è iscritto al canale perciò se ci tenete a supportarmi vi invito a farlo grazie cosa sappiamo delle gang di night city sono numerose pericolose ovvio chi più chi meno mani in pasta ovunque quelle che restano nascoste quelle un po più egocentriche e via così ma partendo dal principio cos'è una gang una gang è comunemente composta da criminali di vario genere e tende a governare illegalmente sfruttando a proprio vantaggio la violenza psicologica e fisica ma la prediletta rimane quella fisica una gang di night city di tutto rispetto di norma traffica in droghe armi e svariate ramificazioni del mercato nero gli animals stanno le droghe anabolizzanti come gli scavengers al cyberware usato strappato via dalle loro vittime sebbene non esista una politica standard quando si tratta di bande per via della diversa natura cultura o modus operandi l mcpd ha la possibilità di usufruire della forza letale non appena la situazione a detta degli agenti diventi insostenibile ergo la polizia parafrasando può considerare al momento il da farsi tuttavia per il quieto vivere impone che le gang operino liberamente fin quando non causino problemi eccessivi questa strategia forse può sembrare errata ma teniamo conto che le gang in quanto per la maggior parte dei casi siano spavalde lasciano una moltitudine di tracce e dati e questi ultimi vengono raccolti dalla polizia proprio per accumulare prove e inserire nomi nelle proprie indagini altro argomento importante riguardo le gang è proprio che esse mantengono uno strettissimo legame e familiarità con il territorio di conseguenza i dati raccolti dall mcpd consentono un controllo a 360 gradi evitando azioni inutilmente pericolose come l'inserimento di agenti sotto copertura e adesso ti parlerò della struttura gerarchica di una gang ma prima partiamo dal covo i quartieri generali o tane di una banda sono segreti o gelusamente custoditi ovviamente pesantemente difesi poiché servono come punti di incontro e rifugi spessissimo sono immagazzinati anche grande quantità di preziosi cyberware risorse di ogni sorta perciò non è raro che il capo rimanga h24 al suo interno per il fattore gerarchia partiamo dal poco citato boss o signore della guerra lui ha l'ultima parola e decide qualunque azione e destino del gruppo poi ci sono i luogotenenti seguono gli ordini del signore della guerra come il vangelo i membri più anziani e fedeli della gang hanno la possibilità di comandare piccoli gruppi e possiedono molto più margine decisionale in confronto agli elementi di rango inferiore seguono gli home boys e i blood boys altrimenti noti come i full time sono le truppe speciali delle gang nonché gli elite e chi si è guadagnato il rispetto con il sangue e in ultima posizione ci sono gli affiliati conosciuti affettuosamente come part timer vengono impiegati come riservisti quando le cose vanno davvero male gli affiliati di norma sono fan sbandati o semplicemente qualcuno che cerca un posto al mondo riconoscendo in una specifica gang degli ideali suddetti elementi puntano la scalata sociale all'interno della banda per mezzo di imprese o gesta da chum coi coglioni enormi ci sono dei rari casi dove gli affiliati possono trovare un rango già elevato grazie alle proprie abilità o cyberware tipo esame di ammissione per quest'ultima descrizione adesso affrontiamo le tipologie di gang e le loro caratteristiche booster gang sono le bande di strada dove i membri prendono la via dell'estremo potenziamento fisico difatti queste come gang sono le più conosciute per la violenza non per niente il loro eccessivo modificarsi di cromo li trascina al limite o verso la cyber psicosi estremamente territoriali si fondano quasi per necessità necessità data da due fattori il primo è che non posso più stare tra la gente perché sono una mina vagante la seconda stare da solo iddio sa dove è un pericolo per me quindi trovo altri reglietti e piano piano si crea una comunità la più famosa booster gang di night city sono i maelstrom chromatic metal gang queste gang incentrano le loro attività verso i loro gruppi rock preferiti interpretando i testi delle canzoni come ordini impartiti dai loro eroi nella maggior parte dei gruppi chromatic vengono praticate violenze casuali e totalmente insensate come mezzo di espressione un tipico esempio è la steel slaughter slammers del 2020 combat gang un nome un programma e avrei già pensato i nostri energumeni preferiti le combat gang sono incentrate su un codice non scritto del guerriero rituali di combattimento gradi armature armi chiudono il cerchio mistico attorno a questi gruppi la pericolosità di queste gang deriva dalla costante ricerca di conflitto una volta che dichiarano guerra non si arrendono e non cambiano idea la maggior parte dei membri passano la giornata a litigare tra loro tipica combat gang quella degli animals cult gang composte per lo più da giovani queste gang sono dedicate alla credenza o ideologie specifiche seguono i loro obiettivi con zelo e dedizione fanatica ed estremista simboli e idoli sono tipici ornamenti e tratti distintivi di questo genere di banda e per la stragrande maggioranza sono pericolosi beh sono pazzi ma non temere di solito non sono predatorie Dorf gang su questa tipologia di gang non ho trovato molto ma da quel che ho capito ai dorfer piace usare endorfine sintetiche nei combattimenti invece delle droghe acclamate da tutte le altre gang family gang le family gang sono vere e proprie famiglie allargate che accolgono e proteggono bambini che fuggono orfani o reglietti i ragazzi più grandi gestiscono la banda e proteggono il territorio mentre i membri più giovani rubano e commerciano per sostenere la famiglia questa tipologia di gang è iper protettiva nei confronti dei suoi membri e verso la casa dove risiedono una tipica family gang è quella dei brady bunch che attraverso la bioscultura cercano di somigliare alla famiglia di una nota sitcom statunitense ora io ho fatto una ricerca e ho trovato il programma televisivo la famiglia brady andata in onda dal 1969 al 1974 solo che una la gang ha brady scritto con la i l'altra la sitcom ha brady scritto con la y coincidenze go gang principalmente bande di motociclisti nomadi sono le controparti impure delle gang urbane dell'omonimo tipo dalla discendenza asiatica che prendono origine dal giappone in questo caso le gang degli steel dragons acerrimi nemici e dei più puri tiger clubs guardian gang tendenzialmente sono gruppi che si mettono a guardia del proprio quartiere o strada questa gang emerge quando la gang locale qualsiasi delle sopracitate pisciasse fuori dal vaso ma io me li vedo panettieri meccanici operai muratori con le mani di amianto che vanno a farcire di legnati i gruppi di galoppini sotto i lampioni la notte che fanno quel che non devono fare cioè ma vi immaginate hate gang indipendentemente dalla razza una hate gang è composta da giovani uomini uniti attorno alla supremazia razziale uniformi bandiere slogan militaristi sono la regola se la prenderanno con tutto ciò pensino non rispetti la loro ideologia e io adesso vi lascerò un'immagine e voi utilizzerete la vostra immaginazione per cercare di capire dove vanno in quale direzione vanno questi gruppi esattamente skinhead fascisti perfetto nihilist gang conosciute anche come bande terroriste queste vanno oltre le normali azioni di violenza contro il prossimo attuano vere e proprie campagne di paura e atrocità esattamente come una setta sono note per essere suicidi autodistruttivi nel loro da farsi non possiedono convinzioni ideologiche se non quella che la vita e l'esistenza non hanno alcun significato una delle più famose è quella dei voodoo boys party gang il nome dice già tutto queste gang sono dedite solo alle feste e ai party bevono si drogano fanno baldoria ovviamente aggrediscono la gente tutto come parte di uno stile di vita smoderato e poco sano per questa gente la festa è davvero tutto una tipica party gang è quella di piranhas del 2020 poser gang queste gang mirano ad emulare personaggi famosi per mezzo delle azioni o grazie alla bioscultura suona forse familiare prankster gang tipologia di banda che ama scherzare presente le zingarate ecco alcuni usano scherzare in modo innocuo e giocherellone altri in modo pericoloso e sadico pensa che ridere spingere un cassonetto d'acciaio in mezzo all'autostrada mentre arriva un bus pieno di gente che spasso no self defense gang queste particolari tipologie di gang sono pacifiche formate per la necessità di difendersi da una minaccia persistente e costante sono gruppi relativamente semplici finché stai alla larga dal loro territorio e li lasci stare tra le più note abbiamo la gang juilliard una gang composta da artisti di strada presi di mira e poco apprezzati però hey mentre mi esibisco nel traffico cittadino ti passa la voglia di prendermi a calci se la donna barbuta che mi accompagna è armata di mitragliatrice pesante no e queste mio caro chum erano le varie categorie di gang presenti nell'universo di cyberpunk 2077 come al solito scrivi nei commenti la tua e magari dimmi se ti rispecchi forse in qualche gang detto questo lascia un like iscriviti ricordati quel famoso 60 per cento 70 adesso non mi ricordo ma iscriviti gentilmente e condividi con altri fan io sono cagefield grazie per aver guardato il mio video e alla prossima